Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso, se sbagli un passaggio così l'errore ti può costare molto caro. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandoli in campo.